quale eccellente esempio del potere dell'abito fu il giovane oliver twist avvolto nel panno che fino a quel momento aveva formato la sua unica copertura sarebbe potuto essere il figlio di un nobiluomo come di un accattone difficile sarebbe stato per il più altezzoso degli estranei attribuirgli la corretta collocazione nella società ma ora che era avviluppato nelle vecchie fasce di tela che nel corso della loro sempre uguale funzione erano diventate giallastre era ormai catalogato ed etichettato ed entrò di colpo nel suo posto il trovatello del comune l'orfano dell'ospizio l'umile bestia da soma mezzo morta di fame destinato a transitare per il mondo a sberle e scapaccioni disprezzato da tutti compatito da nessuno oliver pianse appassionatamente se avesse saputo che era un orfano abbandonato alla merce di amministratori e sorveglianti forse avrebbe pianto ancora più forte grazie a tutti grazie a tutti